35 convenzioni per altrettanti interventi sul sistema idrico integrato abruzzese. A disposizione ci sono oltre 117 milioni a valere sui fondi del masterplan. A firmare le intese sono stati il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, e il direttore dell'ERSI, Tommaso Di Biase. Sono previsti 14 interventi in provincia dell'Aquila, 10 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e 8 in provincia di Pescara. Soggetti attuatori nella quasi totalità dei casi, le società che gestiscono il ciclo idrico nei diversi territori, cioè ACA, CAM, Sasi, Ruzzo, GSA e SACA. Mentre altri 5 interventi saranno eseguiti direttamente dai comuni e 2 dalla provincia di Pescara. Complessivamente la regione ha programmato 50 interventi sul ciclo idrico per un investimento di 145 milioni di euro. Di questi, 7 sono già in corso. Ai fondi del masterplan vanno aggiunti 170 milioni di euro che sono destinati al servizio idrico integrato, ma sono finanziati attraverso il decreto Sblocca Italia e il recupero di stanziamenti precedenti. Io adesso ho raccomandato e richiesto sfrontatezza lavorativa. Cioè non è che questi denari si fermano nei fascicoli, vengono aggiudicati alle imprese e nessuno monitora o controlla o esige. Deve scattare proprio un cantiere di esigenti e sfrontati che ogni settimana verifica come procede la produzione di cantiere. Si avvicina alla proclamazione degli eletti il prossimo 23 di marzo. E allora D'Alfonso, sul suo nuovo ruolo in Senato e sulle dimissioni che continuano a chiedergli dall'opposizione, commenta così. Al Senato voglio andare a fare il falegname a favore delle aspettative degli abruzzesi. Sarò un cercatano incredibile di norme a favore dell'Abruzzo e di risorse ulteriori finanziarie. Ma io sono diciamo uno studente che coltiva la passione per l'immissione. Io mi immetto nel ruolo, non conosco l'istituto della dimissione.